in questo video vediamo un modo originale per inviare un link di una lezione online con zoom o google meet utilizzando powerpoint per creare questo effetto di busta con il link all'interno una volta creato il primo modello possiamo semplicemente duplicarlo e cambiare il colore della busta per le diverse classi continuiamo con le slides powerpoint che abbiamo visto nel video precedente se non l'avete visto trovate il link sotto questo video nella descrizione andiamo innanzitutto su inserisci forme e disegniamo un rettangolo aggiustiamo le misure e centriamo poi andiamo su riempimento del contorno e togliamo il contorno mettiamo nessun contorno poi andiamo su riempimento forme e scegliamo un colore che ci piace nella sua versione più scura per creare un contrasto scelgo il verde scuro poi andiamo di nuovo su inserisci forme prendiamo un rettangolo di nuovo e disegniamo all'interno un altro rettangolo questa volta metteremo un colore più chiaro che risalta aggiustiamo un po le misure in maniera da avere un bordino esterno che si vede e andiamo su riempimento prendiamo un colore che contrasta va bene anche un giallino ecco lo centriamo se teniamo premuto vediamo la riga rossa che viene togliamo il contorno quindi mettiamo nessun contorno ora inseriamo una casella di testo dove metteremo il nostro messaggio prendiamo un font un carattere che ricorda un po la scrittura a mano ingrandiamo la dimensione allarghiamo un po una volta che è pronto lo trasciniamo all'interno copiamo un link della nostra classe di MIT per esempio e lo incolliamo lì aggiustiamo la misura una volta che abbiamo sistemato e centrato come vogliamo selezioniamo la scritta del link e andiamo su collegamento per creare un link attivo inseriamo il nome che vogliamo visualizzare ad esempio MIT e incolliamo lì il link che avevamo copiato in maniera che si crei il link attivo ora visualizziamo soltanto la scritta e da lì possiamo andare alla pagina che abbiamo creato prima selezioniamo per poter ancora centrare meglio e lo portiamo un po in alto possiamo inserire un avatar in miniatura aggiustiamo la misura una volta che abbiamo sistemato e siamo contenti della posizione che abbiamo messo sempre verso in alto in maniera tale che quando esce dalla busta si riesca a leggere tutto il messaggio bene ora facciamo ctrl a per selezionare tutto poi col tasto destro andiamo a raggruppare tutti questi elementi ora spostiamo un po tutto in basso anche se non è precisamente centrato per velocizzare metto la e poi andiamo su inserisci e prendiamo un triangolo se l'avete usato recentemente lo trovate in alto oppure tra le forme prendiamo un triangolo teniamo premuto il tasto e disegniamo un triangolo lo ingrandiamo un po poi andiamo su formato e andiamo a selezionare non disponi ma ruota a destra a 90 gradi e poi lo posizioniamo lo ingrandiamo prima e poi allineiamo esattamente alla forma della base che abbiamo creato prima dopo andiamo a cambiare il colore di questa aletta intanto metteremo quel verde uguale per comodità e poi lo modificheremo più avanti ora facciamo ctrl d per duplicare e poi spostiamo e andiamo di nuovo ruota sempre da formato facciamo ruota questa volta orizzontalmente e lo posizioniamo dalla parte opposta e allineiamo ora con i tasti ctrl d duplichiamo un'aletta e poi la spostiamo e la allarghiamo per coprire lo spazio sotto e aggiustiamo fino a dove possiamo aggiustare in maniera da far sembrare appunto la busta possono anche usare le freccette per spostare in su in giù oppure lateralmente una volta sistemato facciamo duplica anche quella e poi andiamo sempre su formato ruota e questa volta la giriamo verticalmente e poi la spostiamo in alto per chiudere la busta possiamo anche usare le frecce in su per spostarlo se vogliamo spostarlo a piccoli passetti diciamo possiamo tenere premuto il control con la freccina e si sposta e avanza molto lentamente una volta che abbiamo fatto questo andiamo ad inserire un contorno nero giusto per esaltare la parte di chiusura della busta ed ecco che abbiamo il primo prototipo base pronto prima di procedere al cambio del colore della busta la parte esterna facciamo un coppia dell'aletta sopra e la spostiamo un attimo giusto per avere lo spazio per selezionare tutte le quattro parti della busta e questa volta andiamo sempre su riempimento e scegliamo un colore leggermente più chiaro dello sfondo che avevamo creato e lo vediamo appunto vicino l'aletta che ci servirà come la parte in apertura quindi cambiamo anche quella parte mettiamo un verde più chiaro e ora spostiamo questa aletta e la posizioniamo in quella posizione lì perché poi ci servirà per l'apertura facciamo un clic per selezionare e poi andiamo su formato ruota e questa volta la ruotiamo verticalmente e poi la spostiamo anche con le freccette in alto per poter allineare bene ed ecco che abbiamo la parte che poi ci servirà in apertura una volta che abbiamo inserito l'animazione prima di tutto selezioniamo la parte chiusa diciamo della busta andiamo su quella freccia e selezioniamo una animazione in uscita tra quelle disponibili sotto moderato scegliamo compressione e scegliamo l'opzione effetti verso l'alto ora selezioniamo la parte alta e andiamo a scegliere un'opzione di animazione in entrata sempre su moderato scegliamo stiramento facciamo ok e poi l'opzione effetto scegliamo dal basso inizia scegliamo dopo precedente ed ecco che si è animato ora vediamo come far uscire quella cartolina all'interno quindi andremo su home selezione apriamo il riquadro di selezione clicchiamo sulla busta chiusa cambiamo il nome giusto per riconoscere chiamiamo chiusura busta e poi clicchiamo su quell'occhio in maniera tale che diventi invisibile e poi riusciamo a lavorarci con l'animazione della cartolina quindi andiamo su animazione scendiamo giù la freccia andiamo percorsi di animazione scegliamo linee e poi andiamo a selezionare verso l'alto ora porteremo l'aletta all'indietro in secondo piano in maniera tale da far uscire la cartolina in avanti quindi tasto destro e la portiamo in secondo piano ora proviamo a vedere l'animazione ed ecco che esce ma è veloce quindi andremo un po ad aumentare la durata a 5 secondi e facciamo inizia dopo il precedente ed ora vediamo l'anteprima clicchiamo lì per vedere la presentazione ed ecco che la cartolina esce in maniera corretta bastava portare la durata a 5 secondi anziché 2 e mezzo per avere appunto questo effetto di uscita a sorpresa con questo metodo di comunicazione con la busta all'interno la cartolina possiamo anche utilizzare in diverse situazioni per oggi questo è tutto alla prossima puntata ciao